l'alto consiglio di sirio è una nuova linea temporale e un nuovo tè di chili wilder 2 dicembre 2024 saluti siamo l'alto consiglio di sirio ci fa sempre piacere comunicare con voi grazie per questa trasmissione molti di voi potrebbero già essere consapevoli di essere entrati in una nuova linea temporale che è una traiettoria molto più rapida verso il risveglio dell'umanità questa linea temporale sta portando alla luce incredibili intuizioni sulle agende nascoste e sugli inganni di coloro che volevano controllarvi molti individui sono ora in uno stato di osservazione grattando via attivamente gli strati di inganno che hanno tenuto nascosta la verità alla vista dell'umanità questo processo di svelamento è un passo cruciale e necessario che deve essere compiuto per progredire verso una società che incarni i principi della quinta dimensione è lì che la terra si sta dirigendo nel suo viaggio verso uno stato di coscienza e un modo di essere più elevati è essenziale durante questo periodo di trasformazione astenersi dal mantenere qualsiasi giudizio o attaccamento alle informazioni che si possono incontrare è fondamentale imparare da ciò che scoprite integrando queste lezioni nella vostra vita e mettendo in pratica ciò che serve il vostro bene più alto e il benessere collettivo ricordate che concentrarsi sul passato che è ancora vivo nell'energia di quel momento può ancorarvi in un luogo di stagnazione è invece imperativo adottare il ruolo di osservatore mantenendo un senso di distacco che vi impedisca di rimanere intrappolati nel tumulto emotivo che spesso accompagna tali rivelazioni rimanere concentrati sulla propria luce interiore e sulla trasformazione personale è della massima importanza utilizzate questo periodo come un potente strumento per il miglioramento di voi stessi e per la creazione della nuova terra questo periodo di introspezione e rivelazione è un'opportunità per coltivare una comprensione più profonda di voi stessi e del mondo che vi circonda in questi momenti state entrando in una nuova versione di voi stessi che risuona con vibrazioni elevate e coscienza espansiva la nuova linea temporale in cui siete appena entrati non è semplicemente una nuova traiettoria ma significa l'emergere di un nuovo voi questo nuovo voi è liberato dai fardelli degli attaccamenti dai dei traumi e delle ferite del passato che un tempo dominavano la vostra vita è fondamentale lasciare andare consapevolmente tutta l'energia negativa del passato assicurandosi che non vi accompagni in questa nuova linea temporale dell'esistenza il nuovo voi possiede una diversa firma energetica libera dagli stessi legami karmici che potrebbero in precedenza aver influenzato le vostre esperienze questa ritrovata libertà consente una rapida guarigione e trasformazione poiché non portate più il peso di questioni irrisolte mentre attraversate questo periodo di rivelazione e di esposizione non solo state scoprendo le verità nascoste del mondo ma state anche affrontando le verità interiori che potreste aver nascosto sotto il tappeto nella vostra vita questo afflusso di nuova consapevolezza può suscitare una serie di emozioni ed è importante ricordare di osservare questi sentimenti senza esserne sopraffatti riconoscete le emozioni che sorgono e poi rilasciatele perché non servono più al vostro scopo superiore o al viaggio che vi attende molti individui potrebbero sentire il bisogno impellente di assicurarsi che sia fatta giustizia in particolare nei confronti di coloro che hanno commesso crimini contro la terra e l'umanità è chiaro che arriverà il giorno della resa dei conti per coloro che hanno agito con malvagità tuttavia è fondamentale riconoscere che questa responsabilità opera a livello dell'anima e potrebbe non manifestarsi nel modo in cui molti desiderano essere testimoni ancora una volta è essenziale mantenere una posizione di osservatore assicurandovi che le vostre emozioni non si trasformino in odio o in un desiderio di morte per un'altra anima a quel punto rischiate di non essere diversi da chi ha commesso il crimine ricordate che tutto si svolge secondo l'ordine divino coloro che hanno agito ingiustamente saranno alla fine chiamati a rispondere delle loro azioni anche se tale responsabilità non è immediatamente visibile per voi abbiate fiducia nel fatto che tutto sta procedendo secondo il piano divino e abbiate fede nel fatto che la giustizia verrà fatta a suo tempo e a suo modo è il momento di entrare nel nuovo voi abbracciando il viaggio di trasformazione che vi attende mentre rilasciate tutto ciò che non serve più al vostro scopo più alto in questa nuova linea temporale questo momento cruciale vi invita a lasciare andare le vecchie abitudini le convinzioni limitanti e il bagaglio emotivo che vi hanno impedito di raggiungere il vostro massimo potenziale mentre attraversate questo periodo di profondo cambiamento cogliete l'opportunità di imparare dalle intuizioni e dalle rivelazioni che vi vengono presentate ricordate che questo è un periodo intenso di rivelazione e di esposizione questo processo non riguarda solo i cambiamenti esterni ma anche la comprensione dei cambiamenti interni che rispecchiano i cambiamenti che avvengono intorno a voi come dentro, così fuori riconoscete che ogni lezione appresa è un passo avanti sul vostro cammino verso l'illuminazione e l'evoluzione personale siete un bellissimo faro di luce che irradia positività e speranza lasciate che la vostra brillantezza interiore risplenda per tutti ispirando gli altri a intraprendere il proprio viaggio di scoperta interiore e trasformazione vi amiamo e vi onoriamo siamo l'alto consiglio di Sirio traduzione e voce marina